Oggi in Consiglio regionale è stato votato il progetto di legge sul bullismo e cyberbullismo per prevenire questi fenomeni, sensibilizzare i più giovani e mettere in rete le buone pratiche. Abbiamo contribuito in maniera importante a questa legge, siamo abbastanza soddisfatti ma resta il problema delle risorse che sono insufficienti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.